La risposta russa all'iPhone è arrivata, si tratta dello Yotafone che a partire da oggi è in Venite in Russia e si dà subito anche in quattro paesi europei, ovvero Austria, Francia, Spagna e Germania. Bisognerà appazientare un po', ma entro la fine del primo trimestre 2014 questo dispositivo sarà disponibile in 20 mercati nel mondo. La principale novità di questo smartphone Android che entra in un mercato sempre più affollato e sempre più competitivo è il doppio schermo. Lo Yotafone è infatti dotato di due display, uno nella parte frontale dell'apparecchio e l'altro in quella posteriore. Il display posteriore è stato realizzato con la tecnologia dell'inchiostro elettronico, lo stesso per intenderci utilizzato per gli reader che permette di limitare il consumo di energia e di conseguenza la batteria dura di più. E il prezzo? Questo smartphone costerà circa 499 euro in Europa.